autobus garantiti nelle feste stop sulla natale capodanno itinerari della bellezza 24 i comuni uniti a promuovere il territorio raggire gli anziani con falsi incidenti denunciati due truffatori festa per il primo compleanno del ritrovato museo liveriano betlemme rivive nella magia natalizia di talacchio una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati su rossini news ben ritrovati al telegiornale del canale 80 notiziario di mercoledì 6 di dicembre che apriamo questa sera occupandoci di trasporti perché ha fatto discutere nei giorni scorsi l'annuncio da parte di adriabus di dover privare il territorio del trasporto pubblico locale in sei giorni di festività natalizia in conseguenza della grave carenza di organico la regione però autorizza soltanto due giorni di stop per un servizio pubblico ritenuto essenziale dal consiglio regionale arriva l'intimazione al dietro front sulla maxi sospensione di corse di autobus nel territorio provinciale paventata da adriabus ad annunciarlo è stato l'assessore con delega ai trasporti goffredo brandoni rispondendo ad un'interrogazione della consigliera regionale marta ruggeri che chiedeva garanzie sul servizio essenziale del trasporto pubblico locale adriabus aveva infatti annunciato una sospensione delle corse nei giorni 24 25 26 e 31 dicembre oltre che dell'1 e del 6 gennaio sospensione motivata da un personale fortemente sotto organico e da una necessità di smaltimento di ferie accumulate calibrato in relazione ad un periodo di fisiologico calo di afflusso di utenti sulle corse la regione prora chiede le garanzie del servizio di trasporto pubblico concedendo la sospensione solo a natale e capodanno la richiesta del gestore non è stata autorizzata dagli uffici e in relazione sia alle esigenze espresse dall'azienda che alla bassa domanda di mobilità del periodo indicato si è intenzionati ad autorizzare esclusivamente le singole giornate noi autorizziamo il giorno di natale quindi prossimo venturo e del primo gennaio questo è quello che daremo come autorizzazione come servizio trasporto pubblico locale della regione nelle restanti giornate resterà valido il programma di esercizio del festivo invernale soddisfatta la consigliera marta ruggeri per l'attenuazione di un problema sul quale si erano mobilitati anche sindacati e associazioni di categoria questo della delle infrastrutture della mobilità è un tema che noi particolarmente sta a cuore anche perché se vogliamo parlare di rilancio delle zone interne non si può prescindere da affrontare queste tematiche ora adriavus dovrà dunque adoperarsi per trovare gli autisti che serviranno a garantire il servizio sono giorni importanti per la promozione della provincia di pesero e urbino proprio in queste ore infatti in corso a roma in particolare al maxi la presentazione ufficiale a livello nazionale di pesero capitale della cultura 2024 che vi mostreremo nelle telegiornali di domani 7 di dicembre un altro importante appuntamento di promozione però avvenuto ieri sera al charlie urban hotel con la convention degli itinerari della bellezza che continuano a promuovere il territorio con nuove iniziative e con una rete di comuni salita a ben 24 amministrazioni nel 2024 con 24 comuni uniti in rete sono i numeri di una crescita rapidissima a mettere l'ennesima bolla di certificazione a quella che nel 2017 fu un'intuizione quanto mai vincente quella degli itinerari della bellezza ideati da con commercio marca nord itinerari che partirono sei anni fa con cinque comuni e che anno dopo anno sono cresciuti di adesioni riunendo ora quasi metà delle amministrazioni della provincia in uno strumento di promozione territoriale rivelatosi estremamente efficace 24 esponenti comunali che ieri sera si sono ritrovati al charlie urban hotel di pesero per l'annuale convention dedicata agli itinerari della bellezza focalizzata sui risultati conseguiti nel 2023 e sulle importanti prospettive per l'anno che verrà 24 comuni perché sono aumentati nel frattempo e con l'inserimento di acqualagna borgo pace carpegna e macerata feltria di raccontare quello che faremo nel 2024 un anno segnato in tutta la provincia la pesero capitale italiana della cultura ma che per noi vuol dire una nuova edizione dell'itinerario della bellezza ampliato ovviamente riveduta e corretta anche la guida precedente una presentazione che faremo in Olanda a Utrecht a gennaio prima di della consueta presentazione a Milano alla BIT poi presenteremo faremo una nuova edizione una un nuovo itinerario che è quello dedicato al mare il mare che l'offerta turistica prevalente in termini di presenze turistiche nella nostra provincia ma di cui non c'è traccia non c'è non c'è materiale faremo l'itinerario della gastronomia quindi il viaggio enogastronomico lungo l'itinerario della bellezza una nuova edizione dell'itinerario del silenzio della fede perché con l'inserimento di altri comuni ovviamente siamo costretti a fare questo noi riteniamo che questo sia un percorso importante sia un percorso di crescita come camere commercio crediamo che questi siano i progetti che possono far rinascere il territorio e soprattutto dare un'economia certa al nostro nostro futuro le marche non sono ancora riconoscibili in maniera turistica molto forte ma questi sono i progetti che faranno in modo che la nostra realtà economica venga riconosciuta la regione ritiene gli itinerari della bellezza una vera e propria guida turistica della provincia di peso l'urbino dobbiamo fare uno sforzo in più e ho sentito che nelle corde di conf commercio di conf commercio marche nord ma ho sentito di una collaborazione anche con conf commercio marche centrale e con conf commercio marche per allargare questi itinerari per ampliare sempre di più questa guida che diventi un'altra delle guide importanti per la visita della nostra regione abbiamo visto che anche in quest'anno il turismo è aumentato è aumentato anche di visitatori non soltanto italiani ma anche stranieri e questi sono strumenti fondamentali anche per destagionalizzare il turismo non solo valorizzazione dei territori ma anche tutela e promozione dei loro prodotti di un prodotto che si chiamerà valore bellezza è un modo per incentrare i consumi dei cittadini anche dei turisti nei negozi nei ristoranti nelle botteghe artigiane dei comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza senza comprare nei centri commerciali senza dare i soldi negli stati uniti a amazon o in cina alibaba ma di consumare creare un borsellino un credito con una card che appunto sarà valore bellezza che potrà essere utilizzata solo nei negozi convenzionati nei comuni che fanno parte dell'itinerario ed ora passiamo alla cronaca in particolare a quella giudiziaria quasi dieci mesi dall'uccisione delle pesarese pierpaolo panzieri per il quale è stato arrestato per omicidio volontario michael alessandrini spunta ora all'arrivo del noto avvocato carlo taormina taormina è stato infatti incaricato della difesa di alessandrini assieme all'avvocato salvatore asole che fin dall'inizio si sta occupando del caso taormina aveva già affiancheggiato asole anche nella difesa di igli meta omicidario confesso di smaele lulli nel delitto avvenuto a sant'angelo invado nelle 2015 altra udienza invece oggi alla tribunale di pesero nel processo per l'omicidio di marcello bruzzese ucciso il giorno di natale del 2018 davanti alla sua casa di via bovio un delitto di vendetta trasversale di indrangheta per il quale sono già stati condannati all'ergastolo michelangelo tripodi e francesco candiloro ritenuti esecutori materiali dell'omicidio continua invece il processo a carico di rocco versace ritenuto il pianificatore del delitto a pesero ascoltate oggi i testimoni dell'accusa a cominciare dai militari di rosse nucleo anticrimine di ancona che attesterebbero le responsabilità di versace attraverso le intercettazioni su una sim olandese criptata in cui risulterebbe il lavoro di sopralluoghi di versace nel mese di novembre da parte della difesa si continua invece a ribadire la non presenza a pesero di versace nel periodo in questione di fine 2018 tribunale di pesero che ha anche emesso il provvedimento di arresti domiciliari con dispositivo di braccialetto elettronico nei confronti di un 48 n di colli al metauro ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna convivente gli accertamenti dei carabinieri hanno infatti permesso di ricostruire gravi episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della compagna episodi durati circa dieci mesi episodi che sono stati ricostruiti dai militari con l'ascolto di tanti testimoni e che sarebbero avvenuti anche alla presenza dei due figli minori la vittima per sottrarsi al compagno era già stata costretta a trasferirsi con i figli in un'altra abitazione fuori dalla nostra provincia e anche la redazione di rossini tv negli ultimi mesi sono arrivate diverse telefonate di sospette truffe ai danni di anziani un tema quello dei raggiri che in questi giorni ha visto anche i carabinieri denunciare due truffatori in seguito ad una indagine tenutasi a monteporzio continuano le segnalazioni di tentate truffe agli anziani ma in questo caso sono stati denunciati responsabili si tratta di due campani di 47 56 anni scoperti dai carabinieri di monteporzio nell'adoperarsi in una truffa con la tecnica del cosiddetto falso incidente nel merino dei truffatori era finita una novantenne che ad ottobre aveva ricevuto una chiamata da parte di un sedicente avvisava di un grave sinistro stradale causato dal figlio il sedicente maresciallo la informava della necessità di consegnare una somma di denaro ad un avvocato al fine di evitare la denuncia a distanza di pochi minuti dalla telefonata si presentava a casa della vittima il fantomatico avvocato ma la donna insospettita non gli consentiva di entrare in casa subito dopo il malfattore si è visto scoperto e si è allontanato a piedi raggiungendo una macchina di colore verde gli accertamenti attraverso analisi di immagine da impianti di video sorveglianza privati hanno permesso di identificare con certezza il sedicente avvocato nell'uomo campano di 47 anni e di cristallizzare responsabilità a carico dell'altro uomo alla guida dell'autovettura risultata noleggiata ad aiutare l'anziana a non cadere nel tranello anche l'importante opera di informazione svolta assiduamente dai comandanti dei carabinieri della compagnia di fano tra cui proprio quello di monteporzio carabinieri che negli stessi giorni hanno infatti registrato altre dieci chiamate ad anziani per altrettanti tentativi di truffa non andati a buon fine il prossimo 13 di dicembre compirà un anno esatto la riapertura del museo archeologico oliveriano dopo un decennio di chiusura per ammaloramenti e lavori di ripristino un compleanno che biblioteca e musei oliveriani festeggeranno con celebrazioni che vi illustriamo in questo servizio 13 dicembre 2022 13 dicembre 2023 compie un anno la riapertura del museo archeologico oliveriano completamente rinnovatosi nell'allestimento curato dallo studio di architettura start un anno fondamentale per lento livieri riappropriatosi del museo dopo dieci anni di travagliata chiusura e annessi lavori di ripristino susseguenti a infiltrazioni e ammaloramento dello stadio stabile primo compleanno di un prezioso luogo della cultura ritrovato che si è deciso di celebrare aprendo il museo ad una giornata di festa che partirà dalle 17 del 13 dicembre all'insegna di musica teatro di una mostra fotografica di un percorso interattivo per i più piccoli e anche dell'accessibilità di un museo raccontato in lis questo è stato un anno particolarmente direi bello interessante con un ottimo riscontro da parte anche della della cittadinanza dei turisti che hanno visitato il nostro museo sono venuti a trovarci e ovviamente il museo insomma anche per le sue qualità la sua la bellezza anche dell'allestimento ha riscosso un grande successo e quindi anche per questo abbiamo pensato di festeggiare insieme alla città questo primo compleanno e lo faremo in maniera così molto così molto leggera e informale come siamo soliti fare dedicando uno spazio importante ai bambini visto perché che insomma anche nel corso di questo anno molti sono stati bambini e i ragazzi che sono venuti a visitare il museo anche in occasione di visite scolastiche e poi avremo uno spettacolo un spettacolo musicale e anche una piccola mostra con immagini storiche dei precedenti allestimenti partendo dalla fine ottocento inizio novecento fino agli allestimenti degli anni e degli anni 90 momento centrale delle celebrazioni lo spettacolo reminiscenza di frida neri a nissa guisi che sarà proposto alle 18 19 30 e 20 e 30 daremo vita ad una piccola performance che si ripeterà per permettere di fruire a tutto il pubblico che arriverà man mano e la performance si intitola reminiscenza nostro nostra abitudine è quella di creare delle performance degli spettacoli che evocano fatti storici evocano lo spirito diciamo di reperti archeologici che in questo caso sono soprattutto romani e piceni attraverso una modalità che è quella più diciamo artistica poetica evocativa quindi avremo dei versi dei brani di prosa e soprattutto delle canzoni che partono anche da iscrizioni come quelle ritrovate su un piccolo pezzo di ceramica delle tubature del tempo del tempio di cupra fino a immaginare quelle che possono essere le atmosfere chiaramente con uno sguardo moderno però con le atmosfere e del tempo che andiamo ad evocare e come facciamo da giorni continuiamo a documentarvi i tanti appuntamenti pre natalizi che ci sono nel nostro territorio oggi in particolare andiamo alla scoperta del suggestivo presepe di betle metalacchio giunto alla sua settima edizione l'inaugurazione di betle metalacchio si svolgerà l'otto dicembre alle ore 15 dall'otto al dieci dicembre verranno svolti dei mercatini nel paese chiusa la strada quindi ci sarà un momento conviviale da condividere con le proloco e sempre nell'ambito di betle metalacchio è stata abbinata la lotteria. Il 26 di dicembre invece ci sarà quest'anno una novità accanto alle postazioni dei vecchi mestieri di allora si concretezzeranno con persone che applicheranno in diretta quei lavori quindi per cui sarà una cosa interessante soprattutto anche per i bambini quindi avranno la possibilità di conoscere i lavori che si facevano una volta. Il 6 gennaio poi ci sarà la tradizionale festa ormai storica anche quella che si ripete da sette anni con la presenza delle autorità verrà creato un corteo tutti gli abitanti del paese di Talacchio indosseranno abiti d'epoca e verrà fatto questa sfilata diciamo fino in chiesa dove verrà ricreata la sacra famiglia. Quest'anno è il primo anno che la prorocca di Montecchio che è inserita naturalmente nel Natale che non ti aspetti ha portato anche il betle metalacchio in questa manifestazione è una manifestazione molto importante e noi ci crediamo noi della prorocco ci crediamo in questa manifestazione che fanno a Talacchio in quanto molto caratteristica molto folcloristica e anche diciamo naturalmente un aspetto religioso essendo il presepe ma si pensa naturalmente che molta molta gente verrà come è successo anche altri anni ma penso che quest'anno ci sia ancora più gente in quanto devo dire che gli abitanti di Talacchio per quello che mi hanno detto che mi hanno suggerito ci sono dati molto da fare. Ringraziamo tutti i volontari che come ormai da tanti anni si prestano a realizzare questo presepe maestoso perché la lunghezza di questo presepe è quasi di un chilometro considerando le intemperie di questi tempi che distruggono e queste persone ricostruiscono quindi ci auguriamo che vada avanti per tanti anni e che queste persone mantengano comunque sia la volontà di crearlo. Da Talacchio a Montemaggiore al Metauro altro appuntamento quello del 9 e 10 dicembre con Natale nel Castello. Natale nel Castello è l'evento di Natale di Montemaggiore al Metauro. Si aprirà sabato 9 con una pericina teatrale dove all'interno avremo delle letture a cura dell'associazione liberamente e dopodiché la serata si concluderà a teatro con una bellissima rappresentazione del gruppo Musica e Parole. Si continua la domenica dove sarà l'evento clou diciamo di questa festa e si partirà il pomeriggio dove la regina del Castello con le sue dame insieme a Babbo Natale con i suoi elfi inaugureranno e daranno il via a questo bellissimo pomeriggio. Avremo gonfiabili per i bambini, ci saranno tante animazioni, le zie di Babbo Natale come trampolieri, un bellissimo spettacolo di fuoco. Non ci dimentichiamo del coro gospel, il fano gospel choir sarà con noi e in più sempre in teatro avremo il San Costanzo Show che ci proporrà il suo film comico Non aprite quella sporta con tre proiezioni durante la domenica pomeriggio. E si conclude qui Rossini News, non si chiudono però gli spazi informativi sulla nostra emittente, subito dopo il telegiornale alle 20 e 10 arrivano le pillole di educazione finanziaria con il nostro format La Finanza è per tutti realizzato in collaborazione con Banca Uidiba. Questa sera si parlerà di pensione, iniziamo oggi per il nostro domani approfondimento con il consulente finanziario Francesco Pesaro a partire dalle 20 e 10 con prima replica alle 22 e 30. E poi ve l'abbiamo annunciato ieri, parte un nuovo format sportivo su Rossini TV ogni mercoledì. Andremo alla scoperta degli occhi della Tigre, questo nuovo programma dedicato alla Megabox Vallefoglia, alla conoscenza delle giocatrici della Megabox con una serie di interviste che vi terranno compagnia ogni mercoledì. Prima puntata, oggi alle 21 e 20, alla scoperta della schiacciatrice Beatrice Gardini. A seguire alle 21 e 30 uno speciale dedicato al progetto in collaborazione tra liceo artistico Mengaroni e biblioteca Oliveriana in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, si chiama In città invisibile, immagini e appunti dei viaggiatori visionari, appuntamento come detto alle 21 e 30. E poi vi aspetto domattina in diretta alle 7 e 20 con la nostra segna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini, come sempre in diretta, come dicevo, dal lunedì al sabato. Altra diretta di domani è quella di Insieme a Canestro, il nostro consueto focus del giovedì sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, domani la nostra Elisabetta Ferri avrà come ospiti l'ala Trevon Bluiet, il giornalista Michele Romano, oltre come sempre alla possibilità di interazione in diretta di voi telespettatori al numero WhatsApp che vedete in grafica 370-366-7210 insieme a Canestro domani alle 21 e 20. Ed è davvero tutto invece per quel che riguarda Rossini News, il telegiornale si conclude qui, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.